L'unanimità del Consiglio Comunale è una mozione urgente riguardante la giornata internazionale sulla violenza delle donne che ricorre domani 25 novembre. Abbiamo voluto mettere in evidenza con questa mozione, al di là dei discorsi formali e rettorici, l'importanza e l'urgenza di porre dei rimedi a cui purtroppo la legge non riesce ad arrivare. Crediamo infatti che sia una questione di tipo culturale che debba essere fatta a livello di sensibilizzazione maggiore e che soprattutto debba essere fatto un osservatorio nazionale per davvero coprire e cogliere quelli che sono i luoghi più carenti di un controllo sulla violenza fisica ma anche psichica che quotidianamente le donne da 16 a 70 anni subiscono. Secondo le indagini degli stati infatti sono più di 6 milioni le donne che almeno una volta nella loro vita subiscono violenza. Oltre a questo mi chiediamo al Parlamento che si impegna affinché il governo porti l'Italia ad aderire alla Convenzione di Istanbul a cui tutti e già 16 paesi del mondo hanno aderito, che si porti avanti un osservatorio nazionale e che soprattutto investa sui centri antiviolenza per una questione di prevenzione forte nei confronti di quelle che sono le situazioni di maggior gravità e di carenza rispetto a questi aspetti. Noi infatti crediamo che soltanto con un impegno concreto e quindi con una svolta culturale anche in un paese civile come il nostro in cui la violenza viene purtroppo perpetrata quotidianamente si possa davvero cercare di arginare un fenomeno di tale gravità. Grazie a tutti.